Sì, uno per volta, siete tanti, ci dobbiamo organizzare, un secondo, uno per volta, pienissimo, mi scrivo, mi scrivo, mi ho capito, ma dobbiamo fare una lista, ci dobbiamo organizzare, sì, ho capito, dovete fare la fila, uno per volta, silenzio, silenzio per favore che sta cominciando una lezione, sono venuti per il corso di italiano e gli stavo spiegando che siamo pienissimi, non c'è neanche un posto, tu è italiano, lo dovreste studiare a scuola, io parlo poco italiano, ho bambino a pancia, io andare con mamma dal dottore per tradurre parole, possiamo organizzare una lezione la mattina, Alissa io dovrei dirti di no, invece mi dici di sì, a meno fino a quando non troverò un altro insegnante, adesso vai, sei già in ritardo, va bene, chi ha lezione con me venga, con me prendi anche mia moglie, lei sta a casa, però se non impara italiano farà molta fatica a vivere in questo paese, certo, potete iscrivervi tutti e due, tu e lei, due corsi per gli italiani, Sì, un secondo, un attimo, sì, un attimo, un secondo, un secondo, un secondo. Carciofo, prezzemolo, prezzemolo, il mio paese con prezzemolo facciamo medicina per mal di pancia, Ah, noi ci facciamo gli spaghetti con le vongole, mentre per fare il pesto usiamo il basilico, i pinoli, il parmigiano e olio, allora ripetiamo, Carciofo, prezzemolo, basilico, parmigiano, pinoli.